Ehi, ma puoi sentire qua? Catti l'espito! Eh, perchè è ancora rotondato! Eh, ma la tecnologia l'ho, eh! Eh, ma se non posso comunque dire che è vista la porta prenda, eh! La scena fa bene la gran scena! E dopo tutta la scena, feste di tono, ballare, musica, alletto! E voi che vieni a capire! Ma che ti te la guarda poste, e tegni che fai la tua presenza a capire! L'importante è che a sapere niente, ma è più l'importante! Nessuno al mondo! Ottilo di niente, eh! A sapere da me, perchè c'è anche servitori, che devono neanche andare l'acqua! E ma perchè cosa fai il cattacentitotto? Cattacentitotto, hai da sapere che io ho meno 3 o 4 bis! Ma voilà! Eh, guardatevi, più che da suggero i gatti! Eh! E chi è che paga? Chi è che paga? Chi è che paga? Al padron paga! Eh, e poi andate, la tua tonnette in giro, e con così la vestisse la tonnette in giro! Eh, la vestisse! Con così la vestisse! Con la roba della bottega del padron! Ah, 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 ah! Al caffè! Eh! E poi pensiamo che suonare a pepe, suonare i gatti, e parlare di un gruppamento, contro chi? Contra chi? Contra chi? Al padron! Al padrono, no bravo, non vuoi nada!